ciao a tutti e ben ritrovati ancora una volta su world of warships oggi parliamo dello sherman destroyer americano di livello 10 speciale disponibile per carbone alla modiga cifra di 232 mila unità di carbone senza usare nessun coupon prima di andare avanti piccolo inciso se mi sentite con la voce un pochino rocca così è perché sto uscendo fuori dal covid 19 quindi non vi allarmate se sentite una voce leggermente diversa sono sempre io allora lo sherman è una nave tecnica secondo me ed è una nave che eccelle in divisione per diversi motivi ma invece di parlare delle cose in porto vedremo una partita non la partita migliore del mondo che vedrete con lo sherman assolutamente ma è una partita in cui secondo me si vedono pregi e difetti della nave i suoi limiti e comunque un po di tutto un po una panoramica a 360 gradi di questo destroyer molto molto particolare ci vediamo in partita allora eccoci qua con lo sherman partiamo col dire che in questa partita qua siamo tutti un po fortunati perché non c'era nessun nessuna portiere perché parlando dalle note dolenti di questa nave che ne ha parecchie non si può non menzionare un'antierea piuttosto piuttosto scadente quindi anche se abbiamo il consumabile della difesa contraerea non pensate che questo consumabile vi possa in qualche modo proteggere da una portere che sa almeno schivare la flac quindi non parliamo di antierea a livello tipo alland smaland assolutamente siamo lontani anni luce da questo da quei livelli un'altra cosa che probabilmente salterà all'occhio nel fatto che siamo molto molto lenti è una nave lenta e anche goffa di per sé vedete che sorpassiamo a malapena i 35 nodi con la bandierina della velocità altrimenti saremmo sui 34 un'altra cosa che avete visto è che ha dei lanciatori dei siluri molto molto particolari unici nel loro genere nel senso che abbiamo due coppie anzi si due coppie di lanciatori in realtà sono dei lanciatori singoli ma vedete che sono fondamentalmente sono fissi di fatto per cui non possiamo dobbiamo girare tutto il corpo nave per poter lanciare questi due siluri ne abbiamo due per parte a 16 chilometri e mezzo e sono i classici siluri del del giring quindi sono identici come come parametri semplicemente ne abbiamo due per lato che insomma possiamo utilizzare veramente in situazioni in situazioni così un po varie ed eventuali però vedremo che si possono utilizzare hanno nel loro un minimo di utilità allora un'altra cosa che vediamo che abbiamo mimetismo non eccezionale possiamo arrivare al massimo a sei chilometri e mezzo di mimetismo che se combinato con il fatto che non abbiamo questa gran velocità capite bene che sicuramente è un limite poi vedete ancora questo cono molto molto settoriale dei siluri adesso lancieremo due siluri uno e una due vedete che possiamo lanciare singolarmente ma vedete che sono molto molto come dire è difficile più facile che non prendete qualcosa con questi siluri piuttosto che prendiate qualcosa ok quindi non vi aspettate di fare dieci o neanche otto silurate a partita cioè è molto molto raro con lo sherman qua siamo radarati abbiamo sfruttato il fumo del neustrashimi e vedete che stiamo lavorando sull'aiua allora un'altra cosa che non abbiamo è una cura della vita per cui ogni come dire ogni colpo che prendiamo sono danni permanenti ma questo è un problema fino a certo punto perché vedremo dopo se vedremo dopo di cosa sto parlando qui mettiamo un siluro fortunato sull'aiua facciamo 13 mila danni con quel siluro insomma non è non è roba da buttare via purtroppo l'aiua si stava già riparando quindi niente falla però insomma usati con un po di intelligenza questi siluri qua possono essere fastidiosi questo sicuramente anche perché magari non in tanti se li aspettano ok bene allora sicuramente avete già notato una un'altra particolarità di questa nave ovvero il fatto che abbiamo le h e come la stragrande maggioranza dei destroyer ma non abbiamo le api ma invece abbiamo le sap però diceva come le sap si le sap perché sono questi qua sono esattamente gli stessi cannoni dell'hosting incresciatore di livello 10 americano anche quello è anche quello monta le sap infatti il proiettile il proiettile pur essendo noi un destroyer non è quello di un gearing ok per chi non sapesse la differenza anche se il calibro è identico 127 mm tra il gearing e l'hosting il proiettile dell'hosting è molto molto più veloce per cui si riesce a colpire si sono a colpire cose bersagli a distanze ragguardevoli mentre col gearing si fa in un'estrema fatica perché il colpo è molto molto lento la parabola è molto arcuata quindi lo sherman condivide con l'hosting gli stessi proiettili infatti vedete che il colpo per essere un calibro così piccolo è relativamente rapido non è rapido come i 130 sovietici però insomma si difende piuttosto bene ovviamente se si tratta di colpire ingresciatori e corazzate anche a distanze superiori a 13 14 km ce la si può fare se si tratta di colpire dei td che stanno facendo zig zag insomma manovre evasive chiaramente la cosa si complica però come punto di forza del dello sherman mettiamo la facilità relativa almeno di colpire consistentemente i bersagli perché appunto grazie a questa velocità aumentata del colpo rispetto alla sua controparte di linea ovvero il gearing un'altra cosa che subito 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 salta all'occhio è l'estrema velocità il tempo di ricarica di questi di questi cannoni che vedete di base è 1.5 secondi poi con tutti i potenziamenti e le skill che possiamo mettere su possiamo avvicinarsi al secondo di ricarica anzi possiamo anche scendere sotto il secondo di ricarica nel momento in cui per esempio montiamo al sei il capitano speciale americano di cui abbiamo parlato diffusamente nel video che vi lascio in alto a destra se non lo conoscete dateci un'occhiata perché quando facciamo confederato quindi la notificenza in battaglia abbiamo uno sconto del 20 per cento al tempo di ricarica quindi se dovessimo fare confederato con lo sherman vedrete che il tempo di ricarica sarà veramente veramente impressionante anche se abbiamo solo tre cannoni ok quindi teniamo in considerazione che tutto il danno che stiamo facendo lo stiamo facendo con solo tre cannoni tre torrette singole da un cannone quindi se ci pensiamo abbastanza impressionante un'altra particolarità di questa nave è che montiamo un consumabile insolito diciamo per la per i destroyer americani ovvero la ricerca idrofonica ora vediamo che c'è questa mini esota che sta andando dentro un fumo del di uno iogumo a questo punto noi cosa facciamo si giriamo con tutto il corpo nave lanciamo i nostri due simpatici siluri perché a questa distanza qua siamo abbastanza convinti di riuscire a colpirla e a questo punto che cosa faccio metto l'idroacustica per controllare anche che non ci sia lo iogumo qui vicino per mantenere la mini esota spottata dentro al fumo dello iogumo iogumo che viene spottato lì quindi siamo a posto metto io un fumo per conto mio e adesso spariamo con le sap la mini esota riesce a mangiarsi entrambi i siluri quindi vedete che in questa partita qua siamo già stati molto fortunati a metterne ben tre di siluri ok però sappiate che non è la norma qua purtroppo l'arbin ci frega un sacco di danno con i suoi siluri e va bene così quindi abbiamo visto che abbiamo anche questo consumabile dell'idroacustica adesso stavo cercando di tornare indietro per vedere se lo iogumo si riavvicinava magari insomma c'era la possibilità di spottarlo grazie alla nostra ricerca idrofonica cosa che non avverrà purtroppo abbiamo visto appunto questa cosa qua dei siluri e adesso vediamo un limite di questa nave ovvero il fatto di avere il classico fumo americano che dura tanto molto bello molto molto utile in certi casi ma poco pratico in altri ovvero se per esempio a un certo punto non avete nessuno che spotta per voi ok perché voi magari siete l'unico dd su quel fianco come di fatto in questo caso anche se non consideriamo il sottomarino nostro se voi siete tra virgolette costretti a stare dentro il vostro fumo per fare danno non c'è nessuno che vi spotta i bersagli e è possibile che rimaniate senza possibili bersagli a cui sparare quindi lo sherman non è un dd autosufficiente secondo me per quanto riguarda insomma il fatto di poter fare danno nel senso che vi dovete basare quasi esclusivamente sullo spotting di di vostri alleati o meglio ancora sui vostri compagni di divisione se avete la possibilità di fare divisione con qualcuno perché secondo me lo sherman è la classica nave che performa eccellentemente in una divisione che lavora tra virgolette per questa nave ovvero se c'è qualcuno che vi fa un fumo se c'è qualcuno che vi spotta le cose se c'è qualcuno che vi fa da schermo impedisce che veniate lasciati da qualcuno che insomma siccome avete soltanto due siduri lo sherman non è una nave così spaventosa tra virgolette da da pusciare ok se invece state pusciando che sono un daring o uno shimakaze queste cose qua uno ci penso due volte prima di venirmi addosso e caricarvi uno sherman invece si vabbè mi mangia due siduri ok mi fa 30 mila di danno e poi lo ammazzo quindi se avete una divisione che lavora insieme a voi o che lavora addirittura per voi allora lo sherman sicuramente sicuramente è una nave devastante perché il potere che è che avete con le sap il dpm che ha è qualcosa di impressionante potete tritare non dico qualsiasi cosa ma quasi in relativo a poco tempo è veramente veramente è qualcosa di di pazzesco però se lo giocate sempre soltanto da soli allora allora secondo me spuntano fuori i molti molti limiti di questa nave che abbiamo detto essere la lentezza quindi la difficoltà nel ricollocarsi sulla mappa il fatto che di fatto siete una nave monodimensionale ovvero dovete sparare sparare e fare danno questo è il vostro mestiere certo se siete in divisione con dd come uno shimakaze o uno smalan che vi fa radar siete un ottimo dd da supporto su priorità sui cap per tritare i destroyer avversari questo sicuro ma se giocate da soli siete non dico nelle mani del vostro team ma molto molto ok per qui dovete sfruttare tutte le occasioni che vi si parlano davanti e sfruttarle al meglio perché altrimenti è una nave che insomma ha forti forti limiti qua vedete che la partita sembra abbastanza in importo per noi abbiamo due cap siamo in vantaggio anche di navi io qua stavo inseguendo tra virgolette la vladivosto che probabilmente è quasi più veloce di me in realtà e qua la stavo inseguendo perché volevo tentare di eliminarla e evitare che prendesse sul fianco la nostra lepanto per cui mi stavo dando la caccia di questa vladivosto che vedete che sembra un rallentatore ma fidatevi questa è la velocità normale dello sherman è veramente lentissimo più è più un cruiser che un che un dd a questo punto a questo punto aspettavo qualche lavoro di vostro facesse qualcosa tipo sparare a qualcuno appena spera cominceremo infatti la nostra opera di bene sulla vladivosto comunque sherman estremamente efficace sia con le sap che con le h e quindi la parte buona di questa nave sono i cannoni il danno che fa e il poco tempo che ci impiega a fare danno questo è il come dire il selling point come si dice ovvero la caratteristica che fa vendere ma che fa acquistare questa nave è il dpm che ha e la facilità con cui si riesce a riescono a colpire nelle navi avversarie poi il posizionamento e lo spotting e tutto il resto questo un altro discorso questo qualcosa che non insomma che non è così evidente la difficoltà di tirar fuori partite veramente veramente buone con questa nave perché se siete dei giocatori di fascia medio medio bassa come esperienza potreste avere delle difficoltà che magari a prima vista insomma che non sono così evidenti ecco mettiamolo così comunque tra poco vedremo anche un piccolo una piccola clip di che cosa succede quando lo sherman arriva a pochissima vita con alzei anche attivato e vedrete il dpm che può avere in quanto poco tempo riesce a tritare nella fattispecie uno shimakaze ok ok questa è un'altra partita un piccolo estratto questa partita qua è persa io sono l'ultima nave rimasta con neanche 4000 punti vita contro un milione di navi vedete qua c'è uno shimakaze ok shimakaze fa un grossissimo errore questo shimakaze si fa il fumo e si mette a sparare a noi allora va bene sparare a uno sherman ok ma no non fare il fumo perché abbiamo detto che lo sherman ha un'idroacustica a cinque chilometri e si dà il caso che ce l'abbiamo attiva ancora per 40 secondi quindi cosa shimakaze fondamentalmente facendosi il fumo si è letteralmente suicidato ok ok abbiamo appena fatto confederato abbiamo praticamente zero di vita 199 hp e guardate il tempo di ricarica di questi cannoni a che livelli spaventosi può arrivare in quanto poco tempo riusciamo a sciogliere letteralmente questo povero shimakaze ignaro di quello che sta succedendo poi accelera e poi insomma si ferma va un po avanti quindi sarebbe potuto durare anche meno questo shimakaze quindi lo sherman in queste circostanze qua è una vera e propria mitragliatrice questo è lo scenario praticamente in cui insomma più di pm di così è fondamentalmente impossibile perché abbiamo il massimo di scarica di adrenalina halsey e tutti i potenziamenti del caso a questo punto vediamo che c'è anche questo henry a 6.000 punti vita io ho detto boh vabbè dai provo a sparargli vediamo che cosa succede henry a 6.000 punti vita contro sherman a 200 lui spara a p ci manca anche del tutto e riusciamo anche a portarci a casa l'herry tra l'altro vabbè questa è una piccola una piccola cosa in più e adesso torniamo sulla partita principale invece siamo tornati qua sulla partita quella principale è rimasta soltanto la proesia con il loro argumo a 2.200 punti vita quindi niente di particolare la proesia si mangia dei siduri del sottomarino quindi probabilmente ha fatto falla quindi ha usato la riparazione quindi noi arriviamo con le nostre simpatiche h e quindi lo sherman non è solo sap ragazzi mi raccomando non solo sap o non solo a che ma come sempre vanno utilizzati entrambi entrambi i munizionamenti sulle vostre navi di solito quindi mi raccomando fate attenzione anche tutte queste piccole cose questi piccoli dettagli su una corazzata che hanno già riparato che hanno già usato la squadra controllo danni sicuramente le h e eco per fare uno due incendi permanenti possono essere interessanti anche perché lo sherman ha una buona percentuale di incendio sui suoi colpi quindi assolutamente anche qua facciamo confederato siamo confederato adesso vediamo che riusciremo a terminare la proesia in maniera abbastanza agevole anche perché questa proesia non ha prevenzione di incendi come si vede per cui si è mangiata anche il secondo incendio permanente adesso andiamo con un po di sap insomma vedete che il nostro tempo di ricarica è sotto il secondo quindi siamo a 0 809 secondi di ricarica quindi se avessimo anche un po di scarica di adrenalina in più potremmo andare addirittura più in basso e che dire questo qua è lo sherman ragazzi una cannoniera di fatto pura è divertente ma secondo me come ho detto dà il meglio di sé in in divisione se siete dei giocatori da giocare da soli prevalentemente secondo me ci saranno le partite in cui farete delle belle partite ma altre volte potrebbe essere un pochino insomma potrebbe lasciarvi un po la mare in bocca una piccola notazione visto che abbiamo parlato di confronti tra gearing austin e sherman vediamo qua elencate le tre navi alcune delle loro caratteristiche principali possiamo vedere intanto il fatto che insomma lo sherman è nettamente più goffo di un giaring perché il giaring gira il timone in tre secondi e tre lo sherman in cinque secondi e tre quindi se si sono solo due secondi ma in proporzione è tantissimo anche un raggio di virata leggermente peggiore anzi è peggiore anche di quello di un austin per cui assolutamente non un destroyer particolarmente agile questo fuori di dubbio la velocità massima è 33.9 quindi 40 nodi senza la bandierina quindi più lento di un giaring che è già lento di per sé ed è più lento anche di un austin che è un incrociatore quindi parliamone per quanto riguarda le batterie principali allora vediamo che il giaring allora ricarica in tre secondi lo sherman in uno e mezzo però chiaramente lo sherman avendo metà dei cannoni del giaring di fatto il dpm con le he è identico perché anche se uno ricarica nella metà del tempo l'altro al doppio dei cannoni e vabbè e uno dice ok ma allora con le he sono uguali in realtà no perché no perché a 12 chilometri vedete che il giaring ci impiega 11 secondi e 4 di fatto ok i proiettili ad arrivare quello dello sherman 7 secondi e 4 che è ben 4 secondi in meno 4 secondi in meno è tanto è parecchio ok per cui anche se sulla carta sembra avere lo stesso dpm con le he la quantità di proiettili che mettete a segno con lo sherman è superiore perché è più facile prendere la mira e far sì che i colpi arrivino dove devono arrivare difatti vedete che abbiamo lo stesso tempo di di volo del proiettile dell'host in quindi i canoni dello sherman sono esattamente quelli dell'host in ok in tutto e per tutto e che dire questo era un piccolo confronto che volevo fare con voi sul sulle differenze tra il giaring e lo sherman visto che spesso possono essere paragonati l'uno con l'altro allora eccoci qua con gli equipaggiamenti dello sherman quindi questa qua la nuova schermata tra l'altro che è presente dalla nuova patch per cui i potenziamenti sono questi qua quindi batterie principali qua quello per il motore se avete quello per l'idroacustica meglio ancora probabilmente qua io ho utilizzato quello per la dispersione che se forse non è così importante ma d'altronde non è che ci siano altre cose interessanti su cui spendere insomma questo slot qua propulsione sicuramente perché vogliamo cercare di evitare i sudi quando siamo dentro il nostro fumo qua mimetismo e qua direi ricarica velocizzata potete montare anche il range aumentato se però fate il capitano in maniera diversa il capitano chiaramente alze il consigliatissimo per il via del talento qua del confederato perché vediamo che ci sconto del 20 per cento quando facciamo confederato in partita questi qua sono le scale che io scelgo di montare se invece della ricarica velocizzata al sesto potenziamento prendete il raggio non vi serve questo ok che invece vi dà il 20 per cento di raggio in più alle batterie principali e potete utilizzare questi quattro punti che so per prendere questo magari per avere un 5 per cento in disconto al tempo di ricarica oppure che so potete utilizzare quattro punti per prendere la radiolocalizzazione che può comunque tornare più utile per dare la caccia tra virgolette o per sorprendere più che altro i destroyer avversari quindi vedete voi io mi trovo abbastanza bene con questo capitano qua con lo stile di gioco che avete visto in partita se voi avete uno stile di gioco diverso o comunque pensate di utilizzare lo sherman in maniera diversa provate a fare delle variazioni vi sconsiglio fortemente questa questa è la skill che ci sconta del 10 per cento il tempo di ricarica quando siamo spottati vi sconsiglio fortemente di utilizzare questa skill qua sullo sherman perché lo sherman è molto goffo per cui quando siete spottati nessuno avrà particolari problemi a colpirvi non siete un marsò non siete un cabaros crescete molto veloci sulla mappa un club air quindi scordate di questa skill qua sullo sherman per quanto mi riguarda poi volete provarla a vostro pericolo fatelo e fatemi sapere come va a finire per cui ragazzi questa qua era la mia non dico recensione comunque il mio commento su questa nave qua sullo sherman ripeto secondo me è una nave divertente ok divertente che scala moltissimo con la skill del giocatore quindi sistemi di buoni giocatori volete provare qualcosa di insomma una nave un po fuoco un po fuoco d'artificio una nave che spara costantemente con i propri cannoni sicuramente dateci un'occhiata sullo sherman non è una nave brutta assolutamente è una nave prevalentemente da random per cui non vi aspettate di trovarla in competitivo perlomeno con questo meta qua questo assolutamente no e se invece siete dei giocatori sono poco esperti soprattutto poco esperti del gioco di destroyer non avete un buon senso della posizione sulla mappa e insomma fate un po fatica a riposizionarvi a trovarvi nella posizione giusta al momento giusto lo sherman potrebbe darvi dei grattacapi extra secondo me poi se volete prenderlo provarlo fatelo e poi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate detto questo vi ringrazio ancora a tutti quanti mi scuso se il commento non è stato come dire sul pezzo al cento per cento ma è il primo video che registro dopo tantissimo tempo e dopo svariati giorni di febbre letto cose del genere quindi insomma sono so già che ci saranno delle delle cazzate dette durante il video ma insomma perdonatemi sicuramente i prossimi saranno saranno migliori detto questo vi invito comunque di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e ringrazio tutti quanti quelli che mi sostengono già e che continueranno a farlo ciao a tutti